Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Papa Francesco sarà operato oggi all'addome in anestesia generale. Il pontefice ha lasciato il Vaticano alla volta del Cemi, la struttura geriatrica del Policlinico Gemelli di Roma dove era già stato per una visita ieri. Per Bergoglio è previsto un intervento all'intestino nel primo pomeriggio con un ricovero di diversi giorni. Il Santo Padre, ha reso noto il direttore della Sala Stampa Vaticana Matteo Bruni, al termine dell'udienza generale, si è recato presso il Policlinico Universitario Gemelli, dove nel primo pomeriggio sarà sottoposto in anestesia generale ad un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. L'operazione, concertata nei giorni scorsi dall'equip medica che assiste il Santo Padre, si è resa necessaria a causa di un laparoccele incarcerato che sta causando sindromi subocclusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. L'adegenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post-operatorio e la piena ripresa funzionale.